Ciao tifoso della Juventus, benvenuto nel canale. Restate sintonizzati per le ultime notizie e gli highlights della Juventus, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Veniamo alle notizie di oggi. Angel Di Maria ha ammesso di sentirsi a casa alla Juventus dopo aver esordito con i bianconeri. Lunedì ha iniziato la sua prima partita di campionato della stagione contro il Sassuolo e ha avuto uno degli esordi più contrastanti che si possano avere. L'argentino ha segnato uno, ha fornito un assist e si è infortunato nella stessa partita. Salterà la prossima partita della Juve contro la Samp, ma è di buon umore e ha usato il suo account Instagram per rassicurare i fan che si sta divertendo a Torino. Ha pubblicato un'immagine su Instagram e l'ha intitolata Che bello sentirsi a casa forza Juve! Com'è bello sentirsi a casa! Andiamo alla Juve! Era la notizia di oggi. Fino al prossimo video!